buongiorno a tutti e bentrovati la lezione di oggi è dedicata all'approfondimento di una figura storica che ha lasciato una profonda impressione un ricordo molto vivido nei secoli successivi alla la propria esistenza si tratta di teodorico e vediamo di scoprire insieme perché questo personaggio viene ricordato non solo dalla storia ma anche ad esempio dalla letteratura teodorico viene ricordato da alcuni storici come il barbaro che amava roma infatti nacque in pannonia quindi diciamo nell'area più o meno corrispondente all'odierna ungheria ma venne educato alla corte imperiale di costantinopoli che all'epoca era la capitale dell'impero romano d'oriente quindi rappresenta proprio in sé una sintesi un incontro fra questi due elementi quello barbarico e quello latino quindi abbiamo da un lato le origini barbare e dall'altro appunto l'educazione latina che segnerà tutta la sua vita vediamo di capire il perché di questa situazione allora cominciamo a fare un breve accenno sul suo popolo di origine di appartenenza che era il popolo degli ostrogoti erano detti anche goti orientali e provenivano da una regione corrispondente all'attuale ucraina attorno appunto alla metà del quinto secolo si erano stanziati in pannonia da dove erano partiti da dove partivano abitualmente per per scorribande insomma per queste ripetute incursioni nei territori dell'impero d'oriente questo fece sì che l'imperatore leone primo per cercare di mettere fine a questa situazione incresciosa decise di riconoscere gli ostrogoti come federati quindi di emanare questo provvedimento che li ammetteva all'interno dei confini dei domini imperiali sostanzialmente questo patto di alleanza venne sancito in un modo particolare con un gesto fortemente simbolico e molto carico di significato teodorico che era figlio del re degli ostrogoti venne consegnato come ostaggio all'imperatore d'oriente quindi questo ragazzino insomma viene accolto alla corte di costantinopoli viene educato ovviamente secondo quelle che erano le abitudini e la cultura romana e dell'impero romano turiente appunto teodorico diviene poi in seguito re degli ostrogoti quindi riceve dal nuovo imperatore zenone il compito di invadere e conquistare l'italia perché bisogna ricordare che a quest'epoca l'italia non faceva più parte dell'impero quindi nel 476 era stato deposto romolo augusto dal generale germanico doacre e quindi quando nel 488 gli ostrogoti di teodorico si dirigono verso l'italia appunto l'italia ufficialmente non fa più parte dell'impero dopo cinque anni di guerra sconfiggono doacre che viene ucciso ravenna insieme a tutti i componenti della sua famiglia e quindi teodorico si insedia appunto in quest'area in modo ufficiale quindi in veste di rappresentanti di costantinopoli teodorico viene proclamato re dal suo popolo subito dopo aver eliminato doacre nel 493 e riesce ad avere una diciamo ulteriore ratifica del proprio potere grazie al riconoscimento ufficiale da parte del nuovo imperatore d'oriente anastasio del titolo di re dei romani e degli ostrogoti in italia quindi viene riconosciuto a teodorico questo titolo quindi abbiamo veramente una persona una personalità particolare quindi si trattava sostanzialmente di un sovrano di origine barbarica ostrogota appunto che però aveva ricevuto un'educazione latina nella presso la corte di costantinopoli e che era a capo non solo del proprio popolo ma anche della popolazione romana grazie ad una autorizzazione esplicita ricevuta niente meno che dall'autorità imperiale di costantinopoli ecco tutte queste caratteristiche messe insieme in una persona sola fanno sì che almeno nella nella prima parte del suo regno vi fosse una una certa stabilità in italia quindi tutte queste caratteristiche garantivano il consenso a questa persona proprio da più parti ecco teodorico fra l'altro teneva molto a questa sua veste cioè dopo aver conquistato l'italia cerca cercava proprio di presentarsi alla popolazione latina di cui cercava con continuamente insomma l'appoggio l'approvazione proprio come un sovrano romano tanto che assunse un nome latino flavius teodericus rex fece coniare anche delle immagini con con la propria effigie delle monete con con la propria effigie organizzò spettacoli nel circo quindi cercò comunque di ripercorrere ricalcare quelle che hanno le tradizioni latine quindi finanziando anche la costruzione di edifici pubblici opere di bonifica delle zone parudose e così via ecco rimane un dato particolare che magari può sorprendere ed è il fatto che era fondamentalmente sebbene una persona comunque di una certa cultura era sostanzialmente analfabeta tanto che quando doveva emanare qualche provvedimento aveva l'abitudine di ricalcare la parola leggi quindi il termine che serviva ad autenticare la legge ricalcando sostanzialmente le quattro lettere leggi che aveva fatto incidere in questa lamina d'oro ecco poi diciamo che la sua vita è anche come dicevo prima è anche stata romanzata ha tirato proprio l'attenzione la curiosità dei posteri per molti secoli si diffusero anche molte leggende su di lui perché poi nell'ultima parte della sua del suo lungo incarico perché fu al governo dal 493 al 526 quindi anno della morte governò l'italia appunto per molti anni e negli ultimi anni divenne sempre più diffidente nei confronti delle persone che gli erano intorno e quindi si diffusero appunto diverse leggende popolari che in qualche modo punivano questa figura per il suo operato molto famosa è quella che parla proprio della sua morte si racconta che mentre era alla ricerca di una chimerica cerva dalle corna d'oro il cavallo che lo trasportava si imbizzarrì e iniziò a correre fuori controllo fino a gettarlo nel cratere del vulcano di questa a questa leggenda si rifà ad esempio carducci nel proprio nello scritto la leggenda di teodorico ecco venendo ai dati storici quindi tornando un pochino sulle sulle notizie di cui si ha un riscontro certo sappiamo che i primi anni del governo di teodorico furono improntati ad una coesistenza pacifica e alla collaborazione fra ostrogoti e romani quindi sebbene non si abbia una vera e propria integrazione fra i due popoli ad esempio teodorico rimase sempre fedele all'arianesimo non si convertì mai al cattolicesimo a differenza di altri sovrani di origine barbarica pensiamo ad esempio a clodoveo che invece si convertì al cattolicesimo quindi sebbene ci fossero degli elementi di discontinuità o ad esempio la proibizione di matrimoni misti dall'altro lato però ci fu comunque il tentativo di unire i due elementi quello germanico e quello quello ostrogoto e quello latino ad esempio suddividendo i compiti quindi lasciando ai generali ostrogoti il comando militare e ai funzionari romani i compiti amministrativi quindi si cerca comunque di valorizzare entrambi gli elementi ecco teodorico dicevamo prima fu al governo dal 493 al 526 e per gran parte del suo regno si avvalse del supporto di amministratori latini fra questi abbiamo il noto letterato il giurista cassiodoro ma anche ad esempio il filosofo severino boezio e dalla corte di ravenna che era capitale del regno teodorico riusciva a mantenere la propria autorità e a restituire efficienza alla burocrazia statale proprio grazie al supporto di questi collaboratori preziosi quindi abbiamo circa un ventennio di pace dopo un lungo periodo che per l'italia era stato segnato da continue invasioni e saccheggi per quanto riguarda la politica interna abbiamo anche un periodo abbastanza fiorente insomma in cui abbiamo una rinascita di misure che vanno a consolidare i commerci le attività cittadine consentono comunque una ripresa economica degli interventi di manutenzione delle vie di comunicazione quindi dei provvedimenti che migliorano sicuramente la qualità di vita nella penisola e in politica estera il mantenimento di buoni rapporti con gli altri sovrani dei regni romano germanici che nel frattempo si erano formati in sostituzione di quello che era stato in precedenza l'impero romano d'occidente ecco negli ultimi anni del regno di teodorico come accennavo prima iniziano tuttavia deteriorarsi quei delicati equilibri che si erano andati costruendo negli anni precedenti quindi innanzitutto cominciano a vacillare i rapporti con l'impero d'oriente che iniziava ad essere insofferente nei confronti del peso politico di teodorico e anche contemporaneamente abbiamo l'affermazione in occidente della figura di clodoveo re dei franchi che si era convertito al cattolicesimo e quindi aveva ottenuto ad esempio l'appoggio della chiesa quindi in questo contesto politico che comincia a diventare sempre più delicato sempre più difficile da gestire l'imperatore d'oriente si avvicina al re dei franchi e teodorico comincia a sentirsi isolato a diventare diffidente anche nei confronti di quelli che erano stati sino a quel momento dei suoi fedeli collaboratori ragione per cui comincia a mettere in atto una serie di persecuzioni prevalentemente a danni dei cattolici come dicevo prima lui rimase sempre fedele all'arianesimo e con pesanti ritorsioni anche nei confronti dei collaboratori più stretti ad esempio boezio particolare venne imprigionato e ucciso nel 525 con l'accusa di aver partecipato ad una congiura contro teodorico ecco a boezio fa riferimento carducci nei versi di chiusura della leggenda di teodorico quando appunto ricorda che dal calabro confine in vetta al monte non sorge il sole ma un bianco crine un'ampia fronte quindi sanguinosa in un sorriso di martirio di splendor di boezio il santo viso del romano senator ecco l'inizio di queste persecuzioni segna sostanzialmente la fine della collaborazione dello spirito di collaborazione fra romani e ostrogoti quindi i successori di teodorico che muore nel 526 si pongono in conflitto con il clero cattolico e con la aristocrazia latina e anche il tentativo di riconciliare questi elementi da parte di amalassunta moglie del re teodato e figlia di ricco non va a buon fine perché amalassunta che voleva ricucire i rapporti con con i romani e riavvicinando i due popoli viene fatta imprigionare e uccidere dal marito ecco quindi da qua in poi si profilerà all'orizzonte una nuova stagione per per la penisola italica e soprattutto diciamo che il nuovo imperatore d'oriente giustiniano ha il pretesto per poter poi intraprendere quella che sarà una guerra lunga e sanguinosa contro gli ostrogoti la cosiddetta guerra greco gotica che darà molto tormento alla penisola italiana dal 535 al 553 quindi sarà un conflitto lungo e assai cruento ecco un'ultima curiosità un'ultima sottolineatura sulla figura di teodorico e su sull'eredità che ha lasciato riguarda la storia dell'arte quindi a ravenna è tuttora possibile ammirare una bellissima opera d'arte che è appunto il mausoleo di teodorico è molto famoso ritorna di frequente sui sui libri d'arte e rappresenta proprio un'opera che in sé racchiude questi due elementi e quello romano e quello germanico ad esempio la cupola che è costituita da un unico monolite di quasi 11 metri di diametro dal peso di 230 tonnellate ha una forma che rievoca le tombe a cumulo dei sovrani germanici così come anche ci sono dei motivi di decorazione fregio alla base della cupola che ripropone un motivo atenaglia tipico dell'artigianato germanico e d'altro lato però abbiamo ad esempio anche la forma decagonale che richiama i sepolcri fatti edificare dagli imperatori romani e quindi insomma abbiamo in questo mausoleo che è tuttora visitabile a fra l'altro la cappella interna che originariamente era destinata alle celebrazioni liturgiche conserva la vasca di porfido in cui presumibilmente venne sepolto teodorico ecco questo mausoleo conserva appunto questi due elementi perfettamente integrati quindi si tratta di un'opera architettonica sicuramente di grande pregio e ancora perfettamente conservata e visitabile bene abbiamo terminato questo breve focus su teodorico e sulla sua epoca vi ringrazio per l'attenzione vi invito a lasciare un like se avete trovato utile questa lezione e continuate mi raccomando a seguire il canale per non perdere i prossimi aggiornamenti arrivederci e alla prossima mi raccomando a seguire il canale per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per la